Bene, allora sono arrivato qua nell'azienda agricola di Simone e qui ci sono un po' di caprette che lui ha messo per introdurre il cucciolo, ma per lui gli animali non sono una novità anche se non li conosce, ovviamente questi, ma ne ha conosciuti altri sull'alto piano d'Asiago. Era così per documentarvi questo trasferimento, un cane nato da cani antilupo che lavorano attivamente a molti chilometri di distanza da questa proprietà, che hanno prodotto questo cucciolo che continua la stessa mansione, la stessa missione di proteggere praticamente il bestiame dai lupi. Allora Simone tu mi dicevi l'altro giorno che tu hai avuto degli attacchi qua. Esatto, io ho avuto a dicembre del 2019 un attacco perché io prima avevo 60 capi, 60 esemplari e le lasciavano andare al pascolo da sole con i miei tre cani. Partivano, andavano nel bosco, dopo tre ore tornavano e quel giorno purtroppo sono tornati un gruppo, dieci capre con un cane, dieci con un altro e un cane da solo. Il resto delle capre l'abbiamo trovato sfarbagliato in mezzo al bosco, mangiato, un po' solo ferito, un po' solo morto. E tu con il latte di capra produci i formaggi? Esatto, i formaggi, sì, primo sale, primo sale stagionato, robiole, ricotte. E sei giovane e mi dici che fai questa cosa per la passione che hai, è molto bello sentire queste cose. Infatti porto volentieri questo cane in questa realtà dove i cani da greggi fanno proprio il loro lavoro e con la loro predisposizione. Bene, era così per farvi vedere queste belle caprette. Avete conosciuto Simone e questo bel cucciolo che adesso crescerà con loro e sarà pronta a difendere. Tra l'altro ha un ottimo carattere proprio come cane da bestiame. Bene, vi saluto tutti.